Buone cose madama, lei mi chiede del futuro, dove andremo a finire, il futuro dei figli. Le dà un dato, l'Abruzzo nell'ultimo anno ha perso 6.000 residenti, 6.000 abitanti. L'Abruzzo, soprattutto l'Abruzzo interno, cioè il nostro Abruzzo aquilano, è per lo più formato da un popolo di vecchi, di anziani, non dico vecchi ma anziani, perché madama anziano lo sono anch'io, anche se non ancora vecchi. E spero di arrivarci chiaramente. Dico, allora il futuro per i nostri figli, madama, visto che non vogliamo accogliere giovanotti che vengono da altre parti del mondo, perché oggi non è più politicamente corretto, vista l'area che tira. E visto che problemi con le pensioni ne abbiamo, non ci sa neanche se ci arriviamo a prendere la pensione prima della morte, allora dico, madama, il futuro per i nostri figli è semplice. Faranno i badanti a noi, cioè praticamente tra qualche anno, tra qualche decennio, saremo un popolo di vecchi, con figli badanti. Arrivederci madama.